Buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori, sono per annunciare che dal primo dicembre finalmente il comando della Polizia Municipale di San Severo usufruva di 14 stabilizzazioni di operatori di Polizia Municipale in modo tale da evitare che questi al posto di lavorare per solo 4 giorni con una giornata di 3 ore, possono lavorare per 6 giorni alla settimana e poterli utilizzare anche per un servizio a tornazione per garantire più servizi alla cittadinanza. Il progetto di questa amministrazione è di andare oltre l'assunzione a tempo pieno di questi operatori e di beneficiare anche nel periodo estivo di operatori di Polizia Municipale da assumere stagionalmente tramite l'acquisizione, tramite i finanziamenti che provengono dai proventi contravenzionali previsti all'articolo 208 del Codice Stradale. In questo senso si sta lavorando con l'amministrazione per rimpinquare un attimino quello che è l'organico della Polizia Municipale. Attualmente con questi 14 operatori saremmo in tutto 46. L'unico problema che sto sottoponendo al vaglio della giunta comunale è l'incremento degli ufficiali e dei sotto ufficiali della Polizia Municipale in quanto quelli presenti ultimamente hanno avuto la possibilità di essere trasferiti in realtà amministrative perché affetti da problemi fisici. Per rimpinquare ulteriormente il comando sarebbe opportuna una politica di trasferimento per le persone che hanno limitazione all'utilizzo in servizi esterni che sono esattamente di 19 unità. In questo senso si sta lavorando con il sindaco e con l'assessore Emiliano per poter garantire continuità ai servizi amministrativi ma continuità a quelle che sono le operazioni di controllo esterno del territorio, quindi più presidio con una politica di trasferimento delle persone che hanno limitazione.